bellissima la frase di ilano roosevelt ieri è storia domani un mistero oggi è un dono buongiorno buongiorno e buon venerdì 29 ottobre secondo me roberto mancini lo sta seguendo con grande attenzione la nazionale campione d'europa stenta sempre un po a chiudere le bellissime trame perché gli attaccanti non sempre sono spietati come vorrebbe l'allenatore della nazionale azzurra e allora sta seguendo un nostro giocatore un nostro giocatore di 19 anni parlo di lorenzo lollo colombo autore ieri di uno dei più bei gol visti da me nella stagione un un tiro al volo con la palla che scendeva dai cirricumuli di ascoli di sinistro che si è infilata violenta tiro violento potente preciso formidabile imparabile si è infilato sotto la traversa del portiere dell'ascoli signori lorenzo colombo l'ho seguito dal vivo con la nazionale under 21 a monza quando l'allenatore nicolato ha preferito mettere lucca l'altro l'altro prodigio della serie b mettendolo un pochino più decentrato si è immalinconito lorenzo colombo si è immalinconito lui deve essere la al vertice della tensione mi dicono seconda punto no lui è un bel bomberone torellone bravo bravo a chiudere le azioni lo fa dai tempi del settore giovanile del milan e lorenzo colombo è stato intelligentemente prestato l'anno scorso alla cremonese quest'anno alla spal ed è pronto a ritornare come ritornato pierino prati dopo l'anno a savona per diventare subito dopo qualche parita al milan è andato a savone è ritornato e ha vinto da titolare il campionato del 67 68 lo finito campionato con nereo rocco in panchina lorenzo voluto partire dal gol di lorenzo colombo per chi non l'avesse ancora visto lo vada a cercare per un è un gol fantastico di un giocatore molto promettente il milan se lo tiene ben stretto lorenzo colombo è da tempo è considerato un giocatore di straordinarie qualità balistiche sotto rete e dunque bene ha fatto il milan a prestarlo per affinare le sue qualità e non ci sono stati dubbi la spal lo ha messo subito titolare un ragazzo di 19 anni grande lorenzo colombo ma noi dobbiamo parlare del milan ma prima ancora di parlare di campo l'ho accennato anzi l'ho sviluppato ieri nel nel sul mio canale youtube nel terzo pezzo della giornata quello che è uscito ieri alle 8 ma voglio accennare ancora che peccato che banali i giurati del pallone d'oro che banali e piatti c'era un giocatore per sorprendere tutti un giocatore che avrebbe unito tutti i tifosi di tutta europa di tutto il mondo e avrebbe meritato il pallone d'oro non per un intervento sull'avversario non per un gol splendido o un tocco a rete ma perché ha realizzato il gol più bello della stagione ha salvato la vita un suo amico a un suo compagno di squadra christian ericsson lui è simon chier che è onorato di giocare nel milan sta bene al milan ma noi siamo onorati di avere un giocatore di questo spessore tecnico tattico e umano pensate che bello sarebbe stato il pallone d'oro in un'annata che sembra favorito le indiscrezioni parlano di lewandowski non riesco a capire perché è un premio alla carriera non è un premio al 2021 dove lui ha vinto il ha vinto il campionato sava sandir cioè col bayern monaco che dal 14 vince sempre campionati che vince abbastanza facilmente ma non ha vinto la champions league non ha vinto ed è stato deludente lui e la nazionale polacca e quindi è un premio a un grandissimo giocatore a un fuoriclasse ma è un premio alla carriera non ha questo 2021 peccato ribadisco il concetto sarebbe stato meraviglioso e nessuno avrebbe mai detto qualcosa di contrario al fatto che simon chier potesse vincere e vincesse il pallone d'oro lui che ha vinto ed è stato applaudito da tutto il mondo per quei minuti drammatici tragici che l'hanno visto involontario ma fermo lucido protagonista e dunque ho ancora una volta aperto questa parentesi perché sono stati piatti non è mia opinione piatti e banali hanno scelto un giocatore non c'era da scegliere un giocatore in questo 2021 c'era da scegliere un uomo c'era da scegliere un uomo loro hanno scelto il giocatore ma quest'anno c'era l'uomo che avrebbe potuto vincere ed è simon chier avrei detto la stessa cosa per un giocatore di qualsiasi altra squadra e sarei stato contento per qualsiasi altra squadra se fosse stato eletto miglior giocatore e dato il pallone d'oro a un uomo invece che un giocatore ma veniamo al milan milan che ieri non si è allenato teoricamente ma erano tanti i giocatori che sono andati che devono recuperare sono andati ad allenarsi pioli ha lasciato un giorno libero ma diaz era la diaz era la perché vuole vuole essere pronto al match contro la roma e visto che dovrebbe esserci anche teo hernandez cominciamo ad avere un bel un bel tatarusanu calabria tomori chier romagnoli adesso vediamo lì dipende dall'allenatore teo hernandez tonali benassero che si i tre vanno bene tutti e tre se le mecher diaz leao rebice non c'è ancora e la davanti giru o ibraimovic ho già espresso la mia opinione io metterei contro la roma giru perché magari serve una partita con tanta mobilità con delle degli degli spazi che eventualmente la roma potrebbe dare e poi mi terrei ibra supremasi per la partita più importante della stagione di questa prima parte di stagione la partita con il porto la sua personalità il suo carisma il suo fiuto del gol la sua esperienza me lo voglio là bello fresco per 90 minuti di straordinaria importanza che potrebbero portarlo ulteriormente ancora riconfermarlo nell'empirio platonico il più alto dei cieli l'empirio platonico willie olson anzi scusate willie olson giocatore un giocatore che ha realizzato nel 1960 il gol più anziano 39 anni 39 anni e mi sembra 200 e rotti giorni nelle nelle manifestazioni coppa dei campioni e champions league insieme perché in champions league è totti ma champions league e coppa dei campioni il più vecchio è olson ebbene segnando a 40 anni e qualche settimana entrerebbe nella leggenda nella storia della champions league io voglio zlatan ibraimovic nella storia della champions league lo accusano ironici sciocchi ironici di non aver mai vinto la champions league un giocatore che meriterebbe pallone d'oro champions league uno dei più grandi fuori classe lo diceva qualcuno ieri ronaldo messi ibraimovic stesso livello e sono totalmente d'accordo parlo degli ultimi anni ovviamente dei palloni d'oro e allora almeno a livello di primato almeno a livello di statistica lo voglio la in cima nell'empirio platonico e allora me lo risparmierei per roma per essere salvo qualche 10 20 minuti per essere tirato a lucido in quella che deve essere la sua partita e deve essere la partita del mila io non voglio convincere pioli non ho la tesserina di allenatore per fortuna dei tifosi del milan ma piacerebbe tenermelo a lucido lucido per il match contro il porto per aiutarlo a entrare nella leggenda se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale youtube di carlo pellegrante Grazie 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 Grazie